L'assessorato all'istruzione e formazione professionale della regione siciliana è autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo guarda allo sviluppo sostenibile della società, alla valorizzazione della comunità, al miglioramento della qualità della vita della persona. In questo si sostanzia anche un dato ulteriore, cioè che lo sforzo educativo non solo è rivolto e deve essere rivolto all'insegnamento curriculare e disciplinare, ma deve più largamente guardare all'educazione civile più che all'educazione civica. L'educazione civile porta con sé il concetto di diritto-dovere di cittadinanza, all'interno del quale ovviamente si colloca di diritto il momento dell'educazione alimentare e dell'indicazione dei corretti stili di vita. Ecco perché il supporto che convintamente abbiamo dato all'iniziativa, ecco perché la presenza dell'assessorato in questa attività congressuale, ecco perché è un impegno che stiamo ulteriormente allargando al mondo scolastico rispetto alla diffusione di queste buone pratiche, anche utilizzando esperienze già svolte o in corso di svolgimento, alle quali evidentemente possiamo portare il contributo operoso del mondo scolastico e dell'infanzia, anche con finalità di prevenzione delle malattie e di standardizzazione dello stato di salute.